andiamo a trovare qualcuno buongiorno caffè latte buongiorno caffè latte tè cioccolata brioche avete capito di chi parlo Ernie dolce Ernie che tu sia bello saluta gli amici di facebook dai forza e siamo qui da Ernesto adesso eccola e gammis a posto Ernesto porcacchon usito preservativo Ernesto me encanta Ernesto e vi è salutato anche Ernesto e quindi alla prossima ragazzi